Padre Amedeo Gravina è così felice del nostro arrivo che si precipita per le scale del convento. Farci in un momento, dice, e intanto c'è un buon bicchiere di amaro del nostro frate Gerardo. Ci spinge nel salottino dove i frati usano ricevere le visite. È una stanza piccola, resa più stretta dalla libreria e da una cristalleria. Sulla parete c'è un piccolo ritratto di San Francesco. Sono salito a Bitetto con un pittore gravinese che vive a Bari da anni, Vito Matera. Padre Amedeo mi ha chiesto se conoscessi qualcuno in grado di realizzare un suo progetto. Gli piacerebbe affrescare le pareti del refettorio con leggende di San Francesco legate alla Puglia. Ci accompagna nel luogo da affrescare. La luce entra attraverso i finestroni aperti sul giardino. Vito tira dalla cartella blocnotes e matita. Spiega che di storie fantasiose sul Santo di Assisi legate alla Puglia non ne conosce che sia una. Sarà dunque il caso che Padre Amedeo lo documenti o che gli indichi dei libri. Padre Amedeo spiega che almeno trent'anni fa Saverio Lasorsa pubblicò una raccolta ormai introvabile di leggende, ma che lui ne conosce qualcuna e può, se abbiamo tempo, raccontarcile. San Francesco comincia. Ma alcune fonti lo attestano e altre smentiscono. Sta di fatto che tutti i conventi francescani del Mezzogiorno vantano di essere stati fondati dal nostro Santo durante quel viaggio. Tra le tante città che tocca c'è anche Bari, dove opera alcuni miracoli che potremmo raffigurare, perché riguardano proprio la nostra provincia monastica. Un miracolo lo compie addirittura in prossimità della pineta che oggi porta il suo nome, San Francesco all'Arena, sul Lido San Cataldo. Si accorge che pendiamo dal suo racconto, si siede e comincia a narrare. San Francesco stava uscendo dalla città, diretto al Gargano, per far visita alla grotta dell'Arcangelo, quando vide alcuni pescatori che tiravano in secca le barche e bestemmiavano come indemoniati per il caldo e per l'assura. «Che avete da maledire tanto il Padre che vi ha creato?» chiese subito. «Non vedete che l'acqua aspetta soltanto di essere chiamata?» E così dicendo conficcò nella sabbia il bastone al quale si appoggiava e subito zampillarono due e tre fontanelle. I pescatori ammuturirono all'istante, si prostrarono con la faccia nella sabbia e chiesero perdono per la malafede mostrata. Vito Matera è stato molto rapido alle parole di Padre Amedeo e sul foglio lo schizzo mostra un paio di pescatori che guardano esterrefatti un frate. Alle loro spalle si intravede, ma molto lontana, la facciata della Basilica di San Nicola. Di acque fresche e salutari, continua Padre Amedeo, secondo la leggenda il santo ne fece zampillare anche altrove, a Uria, nei pressi della chiesa di Maria di Costantinopoli, sul Gargano, e con la stessa semplicità egli fece attecchire bastoni secchi in luoghi aridi e rocciosi, trasformandoli in piante, come fu il caso della vite fatta a germogliare a Mesagne e della mazza di Oleandro fatta a fiorire a Monte Sant'Angelo in una roccia. Ma la leggenda più strabiliante è quella che si racconta a Bari, dove veramente San Francesco lasciò di stucco l'imperatore Federico di Svevia. Questi bellissimi racconti di Padre Amedeo hanno richiamato l'attenzione di frate Gerardo, che si appoggia con i gomiti al tavolo e ascolta rapito, mentre Vito cambia foglio e si dispone a partire con la matita, ma anche lui incantato dal racconto. Alle finestre c'è ancora un po' di sole. Era in città, negli stessi giorni in cui San Francesco predicava a Bari, l'imperatore Federico II. Veniva da Palermo. Come era al suo solito, si portava al seguito giocolieri, maghi, matematici e cortigiani. Insomma, tutto quel bazar che rendeva straordinario il suo passaggio per le contrade del regno. Soprattutto lo precedeva la fama di grande mangiatore di donne, tant'è che dove posava gli occhi li teneva già le mani. Almeno così si vociferava. Contro questa fame lussuriosa e peccaminosa si scagliavano i frati pugliesi. E lo stesso fece San Francesco. Alcuni cortigiani, che avevano avuto modo di ascoltare le prediche, corsero dall'imperatore e riferirono. Non fa nomi, ma si intuisce che ce l'ha contro di voi. Federico diventava di malumore. Tante ne sentì e tante ne sopportò che alla fine volle dare a Francesco una lezione. Lo fece invitare a corte per una delle sue prediche e quando l'ebbe ascoltato ordinò che si imbandisse una tavola. A fine cena fece accompagnare il frate in una stanza del castello, dopodiché con alcuni cortigiani si portò a ridosso della stanza, dove era uno spioncino segreto e dal quale era possibile vedere senza essere visti. Solo allora fu fatta entrare nella stanza una serva, bella e discinta. «Sono qua», disse la donna, «perché vinta dalla vostra fama. «Datemi il piacere di amarvi per questa notte». Il santo restò turbato. Il diavolo veniva a tentarlo sotto quelle forme. San Francesco invitò la donna ad allontanarsi, ma siccome questa insisteva, si accostò al camino e cominciò a spargere carboni ardenti sul pavimento. La donna non capiva, ma il frate le disse, «Vieni, stiamocene insieme su questo letto e diamo frescura ai nostri corpi». La ragazza allora muturì. Si gettò in ginocchio proprio mentre la porta della stanza si apriva e Federico irrompeva col viso nelle mani, pieno di vergogna e di pentimento. «Prodigo di consigli» appare il nostro santo in molte altre leggende, soprattutto verso i suoi confratelli. A Lecce si racconta che abitasse in una casupola fuori le mura, nei pressi della chiesa di San Giuliano. C'era insieme a lui un frate converso, Coviello, uno come Fra Gerardo, che di giorno menava vita serafica e di notte correva per vigne e masserie, rubando tutto quello che gli capitava a tiro, insieme ad altri malandrini. Una mattina frate Francesco si accosta a lui, gli offre un pane e gli dice «Questo sia il pane della redenzione e cerca da oggi di camminare nell'onestà». Il frate si inginocchia e comincia a dire che non una volta ha lasciato la sua cella e che sono voci malevoli quelle che girano sul suo conto. Francesco gli dice allora che se il pane che sta mangiando gli andrà di traverso, sarà smascherata la sua colpevolezza. E infatti, mentre sbocconcella, il cattivo frate quasi si strozza. Corre dal santo con le mani alla gola e ottiene di essere salvato. Ma il lupo perde il pelo e non il vizio. Non ti passa tempo che questo frate riprende le sue scorribande notturne. «Frate Coviello», ribadisse a Francesco, «Voi sarete entro la settimana più in alto di una campana». Il frate fingiva di non capire. «Ma non ti passa una settimana che si avverano le parole». Mentre il santo si aggira per le campagne alzando gli occhi al cielo, vede penzolare da un fragno sette, otto corpi e tra questi c'è anche frate Coviello. Era appeso per il collo alla cima dell'albero e i piedi che fuoriuscivano dal saio erano come un batacchio di campana. «E questo, scherza padre Amedeo, vale anche per frate Gerardo!» Frate Gerardo comincia a ridere e si difende spiegando che lui non ha bisogno di rubare fuori dalla cucina del convento. Il racconto pare tutto sommato violento e lo scartiamo dalle raffigurazioni. Padre Amedeo ci vessa del nocino e riprende a raccontare. Ad un altro frate capitò invece qualcosa di più prodigioso. era uno legato al denaro e ai beni materiali. Nonostante avesse preso il saio proprio non riusciva a dimenticare il mondo. Tuttavia amava dialogare con Francesco e spesso percorrendo insieme la strada che da Bari porta a Modugno si intratteneva a parlare di quelle che gli uomini ritenevano le maggiori ricchezze terrene. Un giorno San Francesco volle dare una lezione al frate. Mentre camminavano tra le campagne piene di mietitori e di asini inciamparono in una sacca piena di borchie e di freggi. Doveva sicuramente essere piena di denari. Il frate si gettò sulla sacca e l'aprì ed ecco che una vipera si avventò contro la sua faccia ma senza pungerlo fuggì verso il folto del grano. Un altro convento francescano che diede uomini e fatti prodigiosi fu quello della scarpa a Bitonto. Già ai primi del 200 frate Luca Bitontino si dice che tenesse un sermone convincente proprio a Federico di Svevia ma qualche tempo più tardi accadde un fatto increscioso. C'erano allora in convento appena due frati e i preti della cattedrale volevano sfrattarli a tutti i costi per impossessarsi dell'edificio. Una notte questi preti organizzano una spedizione per ammazzare i frati e incamerare i beni. Ma ecco che appare in sogno a uno dei frati proprio San Francesco. In mano porta una scarpa e gliela porge dicendo metti questa scarpa e fuggi più lontano che puoi. Il frate si svegliò di soprassalto e svegliato il compagno gli raccontò il sogno. Mentre arrivavano gli scherani dei sacerdoti i due frati si misero in cammino e arrivati a Roma chiesero udienza al Papa. Il Papa udite le loro ragioni mandò l'inquisitore a fare giustizia. E fu così che da quella notte per ricordare la miracolosa apparizione del santo i monaci bitontini portarono scarpa ai piedi e non sandali e il monastero prese il nome della scarpa dal dono di San Francesco. Vito ha tracciato sul foglio una torma di soldati e due monaci sorpresi nel sonno da una strana nuvola luminosa. Nella nuvola ha sistemato San Francesco contornato da uccelli. I due frati hanno il volto di padre Amedeo e frate Gerardo. Solo quando vede Vito girare foglio padre Amedeo riprende a narrare. A Lecce una volta San Francesco bussò alla porta della ricca famiglia Pirroni e chiese del pane. La domestica si strinse nelle spalle non ne aveva impastato e nella madia non c'era che sia una mollica. Francesco non convinto bussò una seconda volta. La domestica si strinse ancora nelle spalle. Alla terza volta la donna lo fece entrare in casa che guardasse coi propri occhi ed ecco che nella madia con sorpresa della donna e dei padroni di casa trovarono tanto pane quanto mai se n'era visto tutto insieme. Tutto un pomeriggio padre Amedeo restò a raccontarci storie meravigliose e incredibili. San Francesco parlava a un ragno a brindisi perché andasse a tessere la sua taragnatela lontano dal quadro della madonna liberava un frate dal tarantismo oppure lasciava le impronte delle proprie mani sui muri del santuario di San Michele al Gargano o impregnava di schizzi di sangue altre pareti mentre si flagellava il corpo storie fantastiche e straordinarie alle quali forse nessuno di noi prestava fede ma che raccontate da padre Amedeo apparivano veramente accadute proprio ieri in tutti quei posti della Puglia e mi piaceva ascoltare tornare ai tempi in cui sentivo il quaresimalista recitare storie edificanti dalla balaustra Vito aveva disegnato un intero blocchetto di fogli e non si accorgeva di essersi sollevato a mezz'aria anche lui nel cuore del refettorio proprio come San Giuseppe da Copertino e San Gerardo Maiella a mezz'aria a mezz'aria a mezz'aria a mezz'aria